L'obiettivo di oggi è quello di dimostrare il teorema di Tellegen. Per fare questo abbiamo bisogno di una serie di strumenti preliminari che dobbiamo introdurre. Il primo di cui parliamo è quello del grafo orientato. Parliamo di un bipolo per il momento. Abbiamo un bipolo in una rete connesso tra due nodi, il nodo 4 e il nodo 5. Il bipolo sarà il bipolo n e possiamo associare a questo bipolo una corrente ed una tensione. D'ora in avanti tutte le tensioni e tutte le correnti sui bipoli, sui lati, saranno associati in convenzione degli utilizzatori. Passiamo al grafo associato a questo lato del circuito. È un semplice tratto, una semplice connessione che connette i nodi 4 e 5. Non è da confondere con il cortocircuito. Questo tratto nel grafo mi rappresenta la presenza di una connessione fisica tra i nodi 4 e i nodi 5. Il nodo 4 e il nodo 5. Il grafo può essere orientato. Semplicemente mettiamo una frecciolina su questo tratto, su questo segmento, che può rappresentare la corrente associata a quel lato del circuito. E vi ricordo, siccome esiste un vincolo, tutti i bipoli sono analizzati in convenzione degli utilizzatori, mettendo quella frecciolina e immaginando che quella frecciolina sia una corrente, abbiamo implicitamente imposto anche il valore di tensione. Quindi il grafo in maniera sintetica riesce a rappresentare, diciamo, un intero circuito. Analizziamo questo grafo, che è quello su cui svilupperemo tutta la trattazione in questo video. Questo grafo ha un certo numero di lati, sono sei lati, e un certo numero di nodi. Questi nodi si numerano e si numerano a partire dal nodo 0. Il nodo 0 sarà il nodo di riferimento. Lo possiamo scegliere in maniera arbitraria. Qui abbiamo scelto il nodo in basso a sinistra. Tutti gli altri nodi poi vengono numerati sequenzialmente. Quindi abbiamo il nodo 1, il nodo 2, il nodo 3 e il nodo 4. Per un totale di 5 nodi. Andiamo ad orientare il nostro grafo. Quindi sul lato 1 andiamo a mettere una frecciolina che, vi ricordo, rappresenta la corrente in quel lato. E adesso orientiamo tutti gli altri lati. Ricordo che questo tipo di operazione è del tutto arbitraria. Quindi le freccioline le possiamo mettere a nostro piacere. Siamo pronti per introdurre il concetto di matrice di incidenza. La matrice di incidenza viene associata a questo grafo. Un grafo che, ricordo, è composto da sei lati e un certo numero di nodi. I nodi sono cinque. Ma nella matrice di incidenza non tutti i nodi avranno un ruolo attivo. In altri termini avranno un ruolo attivo tutti i nodi, tranne il nodo di riferimento. Per questo motivo è conveniente introdurre la variabile n piccolo, definita come n-1, che in questo caso vale 4. Ci riferiremo spesso con la lettera n a questo n-1, quindi n piccolo. La matrice di incidenza, infatti, è una matrice che indichiamo con la lettera A ed ha dimensioni n piccolo per L, nel nostro caso quindi 4 per 6. La matrice di incidenza è composta da elementi. Quindi, il generico elemento AIJ, dove I è l'indice di riga e quindi ha a che fare con i nodi, e J è l'indice di colonna e quindi ha a che fare con i lati, questo elemento può assumere tre distinti valori. Il primo caso è quello in cui il lato J, quindi se consideriamo il lato J, il lato J potrebbe avere una corrente che esce dal nodo I. In questo caso l'elemento AIJ vale 1. Il secondo caso è quello in cui il lato J ha una corrente che entra nel nodo I. In questo caso ci mettiamo valore meno 1. Il terzo caso è quello in cui il lato J non è connesso al nodo I, quindi non interagisce con il nodo I. In questo caso è un valore meno 1. Con queste regolette siamo in grado di andare a scrivere la matrice di incidenza per il grafo che stiamo analizzando. Vi riporto qui il grafo con il suo orientamento. Vi riporto la matrice di incidenza vuota, è una matrice di incidenza di dimensioni 4 per 6, procediamo per colonne, dove le colonne mi rappresentano i lati e le righe i nodi con cui questi lati possono interagire. Il lato I interagisce con il nodo 0 e il nodo I. Il nodo 0 però, vi ricordo, non è presente nella lista di nodi della matrice di incidenza, quindi qui se andiamo ad analizzare questa corrente esce dal nodo 0, ma non ce ne dobbiamo preoccupare, e entra nel nodo I. Se entra nel nodo I, l'elemento 1, 1 sarà di valore meno 1. Tutti gli altri nodi non interagiscono col lato e quindi avranno valore nulla. Ora vediamo la colonna 2. La colonna 2 è associata al lato 2. Il lato 2 interagisce con il nodo I e il nodo II, quindi avremo gli elementi A, diciamo l'elemento 1, 2 e l'elemento 2, 2 saranno diversi da 0. In particolare l'elemento 1, 2 varrà 1 perché la corrente esce dal nodo I. L'elemento 2, 2 varrà meno 1 perché la corrente entra nel nodo II, ed ecco quindi che abbiamo la nostra seconda colonna. Vediamo ancora la terza colonna. Nella terza colonna la corrente esce dal nodo 0, di questo ce ne possiamo dimenticare, e la corrente entra nel nodo IV. L'elemento 3, 4 quindi sarà di valore meno 1, tutti gli altri sono valori nulli. Andiamo avanti in questo modo e molto semplicemente, ma con attenzione, andiamo a riempire la nostra matrice di incidenza. Perché siamo interessati alla matrice di incidenza? Perché la matrice di incidenza ci permetterà di scrivere le leggi di Kirchhoff associate ad un qualunque grafo in forma matriciale. Studiamo quindi in prima battuta le leggi di Kirchhoff delle correnti in forma matriciale. Riporto nuovamente il grafo con la matrice di incidenza. Introduco questo vettore colonna di correnti associate ai lati. È un vettore chiaramente che ha una corrente per ogni lato, i lati sono L e in questo caso sono 6, quindi il vettore 6 per 1. Chiediamoci che significato ha il prodotto matriciale A per I. Intanto verifichiamo che sia un prodotto compatibile. Lo è perché la matrice A è di dimensioni N per L, 4 per 6, e il vettore I è un vettore colonna L per 1. Il risultato sarà quindi un vettore N per 1, dove in questo caso N vale 4 e quindi sarà un vettore 4 per 1. Il primo elemento di questo vettore sarà il prodotto della prima riga della matrice di incidenza per il vettore colonna di correnti. Vediamo quindi che meno 1 è il coefficiente da associare alla corrente I1, 1 è il coefficiente da associare alla corrente I2, quindi il primo elemento è meno I1 più I2. Il secondo elemento di questo vettore colonna è un vettore che vede meno 1 come coefficiente per la corrente I2, meno 1 per la corrente I4 e più 1 per la corrente I5. Dunque, procediamo e riempiamo tutto questo vettore colonna. Le somme algebriche di correnti. Cosa rappresentano? Rappresentano proprio le leggi di Kirchhoff. Se andiamo a vedere il primo elemento di questo vettore, questo corrisponde alla legge di Kirchhoff delle correnti applicata al nodo 1. Sappiamo quindi che quel bilancio di correnti deve dare valore nullo. Il secondo elemento di questo vettore è la legge di Kirchhoff delle correnti al nodo 2. Sappiamo quindi che anche lui deve essere nullo. E così via. L'elemento 3 e l'elemento 4 sono il bilancio di correnti al nodo 3 e al nodo 4. Cosa scopriamo? Scopriamo quindi che il prodotto matriciale A per I non è nient'altro che la legge di Kirchhoff in forma matriciale. Quindi in forma matriciale riusciamo a scrivere la legge di Kirchhoff delle correnti ai nodi 1, 2, 3, 4. Cioè tutti i nodi tranne quello di riferimento. Si può dimostrare che questo sette di legge di Kirchhoff sono quelle linearmente indipendenti associabili a questo grafo. E questo è il primo risultato che ci servirà per dimostrare il teorema di Tellegen. Procediamo con ulteriori nozioni. Dobbiamo introdurre il concetto di tensioni nodali. Prendiamo del nostro grafo solo il lato 5. Lato 5 che era connesso tra i nodi 2 e 3. Ricordiamoci che da qualche parte c'era anche il nodo di riferimento, il nodo 0. Le tensioni nodali sono tensioni che rappresentano la differenza di potenziale tra uno dei nodi e il nodo di riferimento. In questo caso, ad esempio, possiamo introdurre due tensioni nodali. La tensione nodale E2 come differenza di potenziale tra il nodo 2 e il nodo 0 e la tensione nodale E3 come differenza di potenziale tra il nodo 3 e il nodo 0. Se andiamo a introdurre la corrente e quindi l'orientamento che aveva questo lato che, vi ricordo, siccome tutti i lati sono analizzati in convenzione degli utilizzatori, implicitamente è associata a questa tensione, Adesso possiamo esprimere la tensione del lato 5, V5, in funzione di questi due potenziali nodali con una semplice legge di Kirchhoff delle tensioni che ci porterà a dire che V5 è uguale a E2 meno E3. È importante notare che il segno di E2 in questa espressione è positivo. Questo segno è lo stesso segno che l'elemento 2, V5 si prendeva nella matrice di incidenza in quanto la corrente era uscente dal nodo 2. Il segno della variabile E3 è un segno negativo ed è lo stesso segno che l'elemento 3, V5 si prendeva nella matrice di incidenza in quanto la corrente stava entrando nel nodo 3. Questo solo per farvi notare che la matrice di incidenza contiene le informazioni per poter scrivere questa legge di Kirchhoff delle tensioni. Procediamo oltre e andiamo a vedere il grafo completo con anche le tensioni questa volta e proviamo senza la matrice di incidenza a esprimere tutte le tensioni in funzione dei potenziali nodali. Lo facciamo già in forma matriciale introducendo il vettore V che è un vettore colonna di dimensioni L per 1 quindi 6 per 1 dove abbiamo tutte le tensioni dei lati e queste tensioni dei lati le esprimiamo in funzione dei potenziali nodali che qui non vengono rappresentati perché sennò non si capirebbe più niente su quel circuito ma sono equazioni abbastanza semplici da scrivere anche per ispezione visiva. Ci rendiamo conto che questa relazione introducendo un ulteriore vettore di dimensioni N per 1 dei potenziali nodali ricordo i potenziali nodali hanno dimensione 4 perché ne abbiamo 1 per ogni nodo visto che è la tensione del nodo 1, del nodo 2, del nodo 3, del nodo 4 rispetto al nodo di riferimento. Bene, con questo ulteriore vettore è possibile osservare facilmente come vi dicevo in precedenza che effettivamente la matrice di incidenza contiene tutte le informazioni per poter andare a scrivere queste leggi di Kirchhoff delle tensioni in forma matriciale dove a primo membro abbiamo un vettore colonna di dimensione L per 1 che è appunto quello che contiene le tensioni dei lati a secondo membro abbiamo la matrice di incidenza trasposta che quindi ha dimensioni L per n e il vettore dei potenziali nodali che quindi ha dimensione N per 1 chiaramente questo prodotto mi dà un vettore L per 1 che è proprio quello delle tensioni di lato. Direi che a questo punto siamo pronti per dimostrare il teorema di Tellegen. Lascio visibile questa espressione perché direi che a breve la andiamo ad utilizzare. Come si dimostra il teorema di Tellegen? Beh, abbiamo adesso l'opportunità di generalizzare il tutto perché in una rete in cui ci sono L lati noi per ogni lato possiamo stabilire una tensione ed una corrente. Vi ricordo queste sono associate in convenzione degli utilizzatori Utilizzatori Se sono associate in convenzione degli utilizzatori significa che la potenza pj calcolabile come vj per ij è una potenza assorbita. Chiediamoci quindi quanto vale la potenza p questa quantità che noi andiamo a definire come sommatoria per j che va da 1 a l quindi andiamo a fare una sommatoria su tutti i lati di pj vale a dire sommatoria per j che va da 1 a l del prodotto vj per ij Ora, questa sommatoria si può scrivere in forma matriciale Vi basta prendere il vettore v trasporlo e moltiplicarlo per il vettore delle correnti Vi ricordo che questo vettore è un vettore 1 per l e questo vettore è un vettore l per 1 scusate l per 1 Quindi il risultato è una quantità scalare se vogliamo una matrice 1 per 1 Ora continuiamo e continuo qua il vettore v si può esprimere con questa espressione qua la legge di Kirchhoff delle tensioni in forma matriciale quindi apro parentesi il vettore v è un vettore trasposto ed è un vettore che io posso scrivere come prodotto di A matrice di incidenza trasposta per il vettore E tutto questo va a moltiplicare il vettore I Vi ricordo perché qui dobbiamo utilizzare una proprietà delle matrici che vado a far comparire qui che genericamente una matrice un prodotto matriciale A per B dove questa è una matrice M per N e questa è una matrice N per H se la trasponiamo ci aspettiamo di ottenere una matrice H per M e il prodotto A per B tutto trasposto si può scrivere come B trasposto per A trasposto sfruttiamo questa questa proprietà e quindi andiamo a scrivere A trasposto per E tutto trasposto come E trasposto per A trasposto ancora trasposto quindi per A questo diventa il prodotto A per I questa qua corrisponde alla legge di Kirchhoff delle correnti in forma matriciale quindi di fatto stiamo prendendo E trasposto per un vettore identicamente nullo teniamo traccia delle dimensioni il vettore E è un vettore N per 1 quindi se lo trasponiamo questo è un vettore 1 per N questo vettore qua è proprio un vettore N per 1 ed è un vettore identicamente nullo vale a dire che questo mi rappresenta un prodotto scalare dove ogni elemento di E sarà moltiplicato per un valore nullo quindi cosa otteniamo? otteniamo il valore 0 ed è una quantità scalare e con questo abbiamo dimostrato il teorema di Tellegen perché questa potenza che è la somma di tutte le potenze in un circuito in questo caso sono tutte potenze assorbite perché è tutto in convenzione degli utilizzatori quindi il bilancio di potenze la somma di tutte le potenze in un circuito è nullo e questo dimostra il teorema di Tellegen grazie a tutti